infatti l'ho spostato, quello che hai preso eh no, ti ha spostato il sedere, ti ha spostato il spulo di là non, ti ha spostato il spettino che fai non, ti ha spostato il riso non, ti ha spostato il riso l'erò in mattina non è mattinata l'erò in meccano non è fatta che non senti i voli è stato a salire sì eh sì è spostato davanti quello è sprecato proprio questo anche ma vattene affanculo è registrato vattene affanculo Dio Bono hai fatto tutto quello difficile vai perché non si vede vai perché non la faccio neanche a salire meditazione lui meditazione piano eh buongiorno Ah Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti.